Oggi siamo a Borgo Santa Maria e più precisamente in via Casali 54. Cosa c'è in questa via? C'è l'inaugurazione del Balzano Consulting Group. In realtà è la nuova sede di una serie di servizi, di uffici che raggruppano tutti i servizi utili all'edilizia e a tutta quella burocrazia che serve per le persone che hanno bisogno di ristrutturare, di rifare casa. Non soltanto i privati ma anche le aziende. CSI è un centro servizi immobiliari, quindi sostanzialmente non è altro che un raggruppamento di professionisti tra cui i geometri, che lo siamo noi in prima battuta, i professionisti che si è messi a noi. Poi c'è il commercialista, c'è l'avvocato, c'è un agente immobiliare, chi si occupa di sicurezza sul lavoro. Diciamo tutta una serie di professionisti, anche altri, che adesso non sono qui a delengare perché l'elenco sarebbe molto lungo. Tutte le professionalità che servono per la gestione dei propri immobili. Così l'idea è nata perché così si siede al tavolo tutti assieme, nell'interesse del cliente, con il cliente, si ragiona, ognuno per le sue competenze dà il proprio parere, poi si esce da questa riunione dove non c'è dispersione di informazioni perché tutti hanno partecipato. Si velocizza il processo, si ottimizzano i costi e soprattutto si migliora il risultato nei confronti del cliente. Quindi l'idea del CSI che abbiamo sviluppato è nata così. Dopo 25 anni che sono a Pesaro, che ne sentivo sempre parlare, siamo riusciti a realizzarlo. Speriamo che vada bene, ci metteremo tutto il nostro impegno come abbiamo sempre fatto in 25 anni di attività fino ad oggi. Attualmente siamo 14 dipendenti, siamo 12 interni e 2 esterni che girano per i cantieri. Colgo l'occasione anche per ringraziare davvero tutti perché soprattutto dietro tutto quello che siamo riusciti a creare c'è soprattutto una grande collaborazione, quindi dobbiamo ringraziare davvero tutti i collaboratori per lo spirito con cui affrontano il lavoro e come dicevi tu sì, soprattutto le idee anche che loro apportano perché sono idee giovani, fresche e soprattutto c'è una grande percentuale di donne e le donne ragazzi mi dispiace ma ad oggi sono un passo avanti e quindi diciamo che loro ci aiutano davvero tanto e quindi li voglio ringraziare. Il nostro servizio è interessato sia ai privati che alle imprese che devono praticamente gestire il loro patrimonio immobiliare. Quindi nel caso di ristrutturazioni come nel caso di costruzioni ma anche la gestione del patrimonio perché noi non ci occupiamo solo diciamo di interventi edilizi ma tutta quella che è la burocrazia faccio un esempio, seguiamo il catastro, seguiamo le successioni, seguiamo le volture, seguiamo la sicurezza all'interno delle aziende quindi abbiamo diversi settori all'interno delle aziende ma anche nei cantieri edili quindi abbiamo diverse professionalità che si dedicano sia al privato ma anche alle aziende perché in questo mondo di regole che cambiano di continuo, di leggi, di stricarsi non è semplice e noi cerchiamo con la nostra professionalità e con il nostro studio di dare una mano ai committenti che ripeto sono sia imprese e sia privati quindi chiunque deve o gestire il proprio immobile o costruire o ristrutturare può rivolgersi a noi come hanno sempre fatto i clienti e speriamo sempre di dargli un ottimo servizio come ci dicono le recensioni che facciamo.